Grazie a tutti. Questa corsa, un confronto riservato ai gentlemen, corsa senza frusta, Birbadal, BB Mail, Cleopatra Mark, Contigo, Canaco, P, Canter Cronos in prima fila, Balsamo Leone in seconda, favori per Canter Cronos numero 6, Matteo Zaccherini. Macchina che scurva e lascia andare i concorrenti, la velocità iniziale di Canter Cronos, mettece l'errore di Cleopatra Mark, va in vantaggio subito Canter Cronos nei confronti di Birbadal, che riesce a sistemarsi in schiena al leader favorito, terza posizione per Contigo che precede BB Mail che è l'alternativa principale a Canter Cronos, più indietro Balsamo Leone. A precedere Canaco P, intanto se ne vanno i 400 iniziali, 34 per il leader Canter Cronos che si trascina sempre Birbadal, che li rimane a contatto, più indietro in terza posizione Contigo, precede BB Mail, i 600 intanto completati dal leader Canter Cronos in 46 e mezzo, ora davanti alle tribune, tutti in lunga fila indiana, alle spalle di Canter Cronos che continua a guidare dopo 700 metri, in schiena Birbadal, poi Contigo, ancora BB Mail, Cenna spostare all'esterno Contigo per anticipare Balsamo Leone, Contigo avanza, Balsamo Leone in scia, cavalli che arrivano all'altezza del chilometro, in 1'17'8", Birbadal in seconda posizione con all'esterno ora Contigo che continua nella sua progressione, trascinandosi Balsamo Leone, alla corda c'è BB Mail che ha guadagnato una posizione con in schiena Cleopatra Mark, intanto 400 al palo, il parziale ora in 14 e 6 da parte di Canter Cronos che continua a guidare su Birbadal, Cala Contigo, lo scatto di Balsamo Leone, completamento della curva conclusiva, ingresso in retta d'arrivo, ultimi 150 metri per Canter Cronos che nel finale controlla la situazione, vince bene su Birbadal che buona seconda, mentre al terzo finisce Balsamo Leone, 29'9 a chiudere, 1'16 il raguaglio finale, bel primo piano di Canter Cronos che correrà anche domani a Modena probabilmente, se non risente naturalmente del corso di Erna, bel primo piano in percorso di testa, Canter Cronos con Matteo Zaccherini che in percorso di testa vince facile, il team Ellert in evidenza per conto del signor Luciano Cirelli. Grazie a tutti.